Numero 31, quando tornano da questa campagna di guerra, Mosè si archirò contro i comandanti dell'esercito che tornavano da quella spedizione. Mosè disse loro, avete lasciato in vita tutte le femmine? Ora fate così, uccidete ogni maschio tra i bambini e ogni donna che si sia unita con un uomo, quindi trovate una madre con un bambino e ammazzate. Tutte le ragazze che non si sono unite con un uomo le conservate in vita per voi. Qui c'è scritto tutte le ragazze, ma è una traduzione falsa, perché in ebraico c'è scritto tutte le bimbe. E se voi prendete la Bibbia pubblicata dal rabbino Rav Dario Di Segni, dell'edizione Giuntina, c'è scritto bimbe. E poi c'è tutta la letteratura rabbinica per cui potevano fare sesso con le bimbe di tre anni e un giorno. Per cui lui dice tenete in vita le bimbe. E dopo, quando fanno la spartizione del bottino, ahia beh, aspettano 32 bimbe. Cosa se ne faceva a Dio di 32 bimbe? Catechismo. Catechismo, sì. Bravo Nicola. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.